ancora ben trovati da muoversi in toscana in studio mauro ciutini ultimo aggiornamento di questo sabato sulla statale 398 val di cornia chiusa una corsia per lavori tra campigna marittima e il bivio per monte gemoli chiusa una corsia anche sulla statale 12 della betone e del brennero siamo a borgo a mozzano riduzione di carreggiata sulle 45 dopo un incidente tra pieve santo stefano nord e pieve santo stefano sud in direzione dell'incrocio vite erbo terni il concerto dei rally stones questa sera a lucca variazioni e potenziamenti delle linee del trasporto pubblico urbano ed extraurbano oltre a treni straordinari sono potenziati i collegamenti in arrivo alla stazione di lucca dalle principali direttrici firenze pisa viareggio piazza al serchio aulla e per chi viaggia in toscena domani il cielo sarà in prevalenza nuvoloso precipitazioni sparse i temporali potranno essere localmente di forte intensità muoversi in toscana grazie a regione toscana città metropolitana di firenze comune di firenze buona serata